Amici e amici di Rossini TV, benvenuti, benvenute. Questa sera la dedichiamo a un approfondimento molto interessante. Abbiamo in studio, nostro ospite qui a Rossini TV, sul canale 80 del Digitale Terrestre, l'avvocato Corrado Brancati. Buonasera a lei e buonasera a tutti e grazie dell'invito. Avvocato, grazie a lei di essere con noi perché sappiamo che la sua carriera è un'altra e ha una carriera comunque già brillante, lei è un avvocato giovane, 46 anni, ma in realtà sta affrontando questa sua vocazione, questa sua volontà di mettersi dalla parte soprattutto del cittadino in maniera, possiamo dire, non le dico casuale, ma da quello che mi diceva quasi, perché lei in realtà era partito da un'altra strada. Sì, allora, diciamo che io mi sono laureato molto giovane, a 23 anni, quindi nel tempo in 4 anni classici dell'università. Inizialmente non pensavo di fare la carriera d'avvocato, ma di continuare gli studi universitari che comunque mi avevano appassionato. Quindi per alcuni anni ho fatto il ricercatore, ho fatto il docente a contratto all'Università di Urbino, poi qualcosa mi stava un po' stretto nella carriera universitaria, i tempi si allungavano in maniera indefinita, e allora comunque ho deciso di iniziare almeno a provare la carriera d'avvocato. O poi un po' per caso, un po' per fortuna, un po' forse per destino, diciamo, la mia carriera si è subito indirizzata in un settore abbastanza specifico, quindi quello della tutela del cittadino, della tutela del consumatore, e sono diventato subito abbastanza protagonista nell'ambito del mondo delle spropriazioni per pubblica utilità, sempre dalla parte dei cittadini, e quindi questo lavorare sempre, diciamo, dalla parte un po' del più debole, del soggetto un pochino più fragile, nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti delle banche, e così, mi ha fatto appassionare molto questo lavoro, perché in qualche modo mi sono sentito anche utile mentre facevo qualcosa che comunque era un lavoro, e che comunque ha sempre la dimensione del lavoro, ma poterlo fare sentendosi utili è una cosa anche molto gratificante. Sì, rendersi utili col proprio lavoro è straordinario, è vero, è così, è bellissimo avere una collocazione, essere consapevoli del fatto che si può migliorare migliorare col proprio operato la società nella quale viviamo, non a caso lei è presidente dell'Associazione Nazionale Tutela e Spropri, è specializzato in diritto civile, commerciale e amministrativo, quindi una carriera già abbastanza ricca di pubblicazioni, di corsi nei quali ha fatto comunque formazione, e con uno specifico tema, quello appunto della tutela del cittadino, tant'è vero che lei dice nel suo sito che invitiamo chi volesse visitarlo, può trovare proprio il sito perché è molto ricco di news del suo studio, Studio Brancati, il sito esattamente si chiama? www.studiolegalebrancati.com Esatto, quindi www.studiolegalebrancati.com, vi invitiamo a visitarlo, c'è una frase di presentazione che mi ha colpito, ottenere giustizia non è una cosa scontata, anche se si direbbe di sì, tutti vorremmo sempre giustizia, ma sappiamo anche che la giustizia non è di questo mondo, molto spesso, noi ci occupiamo oggi di un tema interessantissimo che avete visto nel titolo appunto della nostra locandina alle nostre spalle, come liberarsi dai debiti, perché purtroppo viviamo una situazione economica difficile, viviamo una congiuntura nelle quali, come abbiamo visto, in pochi mesi o addirittura dall'oggi al domani cambiano le situazioni e ci si può ritrovare in difficoltà, ma c'è una via d'uscita, nel senso che ci si può in alcuni casi liberare di questo fardello e cominciamo a entrare nello specifico, avvocato ci spiega esattamente che cosa può essere, come possiamo definire e considerare questa parola che è sovraindebitamento. Allora sì, il termine sovraindebitamento è stato in realtà introdotto da una normativa ormai neanche più giovanissima, perché è la normativa 3 del 2012. Per sovraindebitamento intendiamo una situazione di squilibrio tra le capacità patrimoniali di un soggetto e quindi la possibilità di pagamento di un soggetto e i debiti che il soggetto ha accumulato. Quindi fondamentalmente quando i debiti accumulati hanno ormai assunto una dimensione tale da non poter essere più pagati in maniera regolare o comunque secondo un piano stabile di pagamento, si va a parlare di sovraindebitamento, cioè i debiti sono superiori alle capacità personali del soggetto che li ha contratti nel tempo. Come dicevo, questo concetto è stato introdotto nella legge del 3 del 2012 che già dall'epoca introduceva una serie di strumenti volti in qualche modo a semplificare, aiutare o trovare delle soluzioni per ripianare l'esposizione debitoria accumulata. È una legge che però inizialmente non ha avuto molto successo, perché quando è stata approvata nel 2012 era abbastanza farraginosa e prevedeva alcuni strumenti molto rigidi e molto complessi. Ad esempio posso anche raccontare un caso, cioè già nel 2013 io avevo introdotto una prima procedura di questo tipo, dopo un anno complicatissimo e assolutamente farraginoso l'Agenzia delle Entrate ci aveva bocciato il piano valendosi appunto di alcune normative previste dalla stessa legge 3 del 2012. Il punto di svolta invece è stato fra il 2019 e il 2020 in cui il legislatore è tornato su questa legge che all'epoca aveva anche il nominio di salva suicidi pensata appunto per quelle situazioni un po' drammatiche e come dicevo nel 2019 e il 2020 il legislatore è ritornato su questa normativa, l'ha semplificata, l'ha snellita, l'ha resa molto più accessibile e ha introdotto degli strumenti che sono un po' alla portata di quasi tutti coloro che si trovano in una situazione di difficoltà. E quindi da questi interventi del 2019 e 2020 questa legge è stata rinvigorita, ha trovato un nuovo spunto, una nuova vivacità e oggi è sicuramente uno strumento da prendere in considerazione perché si trovi appunto in una situazione di sovraindebitamento, perché si trovi schiacciato dai debiti. Ma la cosa particolare è che grazie a questa legge potrebbe accadere che chi ha comunque un debito che per tanti versi non riesce ad onorare può trovare una via d'uscita. Sì, allora intanto possiamo anche specificare a chi è rivolta questa legge e sicuramente sono da escludere le grandi aziende per i quali c'è in generale tutto il capitolo della legge fallimentare quindi il fallimento, il concordato preventivo o altre situazioni analoghe. Concordato preventivo si intende esattamente? Il concordato preventivo è un piano che l'azienda, la grande azienda, l'impresa, presenta al tribunale e ai creditori, un'azienda che comunque si trovi in una situazione debitoria, difficile da gestire, un piano in qualche modo di rientro eventualmente con pagamenti dilazionati a saldo e stralcio. Quindi l'azienda presenta un piano al tribunale, il tribunale nomina un commissario che valuta questo piano e che quindi poi esegue anche questo piano è necessario l'accordo dei creditori e quindi comunque una percentuale di creditori superiore al 60% che siano d'accordo nell'approvare il piano e attraverso questo piano si salva l'azienda e le si permette di continuare la propria attività. Quindi diciamo per le aziende di dimensioni medio-grandi o comunque che rientrano nella classificazione della fallibilità e secondo la normativa specifica c'è appunto tutta una norma speciale, una legge speciale che è stata approvata già nel 1942, tanto per capirci, e che poi nel corso degli anni ha avuto una serie di evoluzioni. Diciamo che questi istituti sono stati in maniera semplificata riportati poi a una realtà più di base, alla realtà della famiglia, alla realtà dei consumatori, ma anche alla realtà delle piccole partite IVA, quindi il negoziante che si trovi in difficoltà, chi ha aperto un ristorante che poi non si è riuscito a portare avanti la propria gestione, ma anche l'agente di commercio, tanto per capirci, o il professionista, o anche appunto una piccola società che abbia attività, abbia aperto, facciamo il caso, una piadineria, tanto per fare un esempio, un caso pesarese della nostra terra, un caso nostro, e che poi appunto non si è riuscito a portarlo avanti, magari a causa del Covid, a causa delle restrizioni, si sia trovato coperto di debiti. Questa fascia di soggetti fino ad oggi era completamente scoperta, quindi se aveva accumulato dei debiti, l'unica cosa che le restava era rimanere schiacciata dai debiti per tutta la vita, quindi questo vuol dire poi non potersi mai riprendere, perché se uno ha accumulato una serie di debiti che non può pagare, rimane schiacciato da questi debiti per sempre, viene compromessa qualsiasi sua capacità, non soltanto di rinnovarsi nel lavoro, ma anche, in un certo punto di vista, anche quasi relazionale, perché comunque situazioni che diventano estremamente pesanti, non si può aprire un conto corrente in banca, non si può prendere un fido, non si può fare praticamente quasi più nulla se ci si trova schiacciati dai debiti. E quindi questa legge 3 del 2012 è stata rivolta appunto a questi soggetti per permettergli una forma di via di uscita. Questa norma, questa legge, prevede poi una serie di casi pratici abbastanza differenziati, cioè una serie di strumenti abbastanza differenziati. Adesso è inutile scendere troppo nel tecnicismo, però possiamo raccontare qualche cosa. Una situazione è quella, una previsione è quella dedicata alle piccole partite IVA. In questo caso si trovano davanti fondamentalmente due scelte. La prima scelta è quella di presentare ai propri creditori un piano, analogamente a quello che vi ho raccontato sul concordato preventivo, e quindi presentare ai propri creditori un piano di pagamento a saldo e stralcio con magari anche dilazione. In questo caso, anche in questo caso, basta l'accordo del 60% dei creditori per condizionare poi anche il 40% che eventualmente non fosse d'accordo. Mettiamoci nel caso che dentro il 40% potrebbe esserci anche l'agenzia delle tratte, ad esempio. E quindi questo accordo con i creditori permette appunto di elaborare un piano di pagamenti rateale a saldo e stralcio che poi viene sempre controllato comunque l'esecuzione dal tribunale attraverso un suo organismo nominato OCC, Organismo di Composizione della Crisi. E quindi, come potevano fare prima le grandi aziende, ora potrebbero farlo anche le piccole, piccolissime aziende, le piccole, piccolissime partite. Una domanda, Avvocato, giusto per entrare nel momento che stiamo vivendo. È una situazione che in questi ultimi due o tre anni, secondo lei, si è acuita? Sì, è una situazione che è cresciuta moltissimo, soprattutto appunto per le partite IVA e per le piccole partite IVA. La legge prevede alcuni strumenti anche proprio per la famiglia e per il consumatore, quindi per le ipotesi di sovraindebitamento da debito al consumo. Chi ha comprato la televisione, il frigorifero e non riesce a pagarle. Però diciamo che nella nostra realtà queste ipotesi sono abbastanza marginali perché comunque sia per un po' la nostra mentalità italiana, sia un pochino per le nostre famiglie, la nostra zona, non c'è la tendenza eccessiva delle famiglie di sovraindebitarsi con credito al consumo. Non ci ritroviamo, insomma, nella situazione paragonabile agli Stati Uniti nel 2008. Esatto. Da noi sono situazioni abbastanza rare. Ci possono essere, la legge prevede, poi magari ne parliamo, delle soluzioni anche per questi casi. Però da noi, viceversa, sono esplosi negli ultimi due o tre anni proprio il caso di piccole partite IVA che avevano aperto un'attività e non sono riuscite a portarle avanti proprio a causa magari del Covid oppure di agenti di commercio o di altre situazioni in cui appunto, a seguito dell'apertura di una partita IVA, si sono poi accumulati una serie di debiti e che questi debiti poi non possono essere pagati molto spesso perché l'attività non c'è neanche più. Diceva, prima ha fatto la prima strada, c'era una seconda strada. Sì, esatto, sempre per le partite IVA c'è una seconda strada che forse è anche più interessante della prima perché la prima comunque è condizionata a un accordo con almeno il 60% dei creditori. La seconda strada, in viceversa, è quella della liquidazione del patrimonio. Che cosa significa liquidazione del patrimonio? Che facciamo sempre il caso di un piccolo ristorante che poi ha chiuso e che ha ancora alcuni beni, la cucina, tanto per dire, che hanno anche poco valore. Con la liquidazione del patrimonio il soggetto, anche in un partita IVA in questo caso in realtà, può che cosa dì? Può dire che cosa? Guarda tribunale, io ti cedo tutti i beni che sono a mia disposizione e con questi paghiamo i creditori per quello che è possibile pagarli. E possono essere anche percentuali di pagamento in realtà molto basse, anche perché nel momento in cui un soggetto ha ceduto proprio tutti i propri beni e a quel punto che cosa gli si deve chiedere di più? Altrimenti diventa fondamentalmente una schiavitù per debiti, perenne. Nel momento in cui si cedono tutti i propri debiti si mette un punto a capo. Con quei debiti poi si vanno con quei un soggetto cede tutti i propri beni ecco con quei beni che si vendono poi si va a sanare in qualche modo per quello che si può i creditori che hanno degli ambiti di credito. Ecco, ha detto una cosa adesso molto importante sulla quale puntualizzare per quello che si può. Cioè, quindi c'è una situazione nella quale effettivamente potrebbe anche essere che non si riesce a ripianare al 100% il debito che si ha. Sì, il 100% non capita mai e in realtà molto spesso siamo su percentuali che sono molto molto più basse e 10% 20% questo non deve essere letto come un'ingiustizia perché è ovvio che alla fine ci rimette sempre qualcuno ossia ci rimettono quelli che hanno fatto credito che non vengono pagati. Però bisogna anche capire che queste sono situazioni ormai totalmente incancrenite in cui è impossibile giungere a un pagamento di conseguenza il soggetto che comunque non sarebbe pagato in realtà non perde nulla per questa legge perché tanto non sarebbe pagato lo stesso e si viene incontro invece a persone che sì forse potrebbero aver fatto il passo più lungo della gamba ma forse sono state semplicemente sfortunate o forse semplicemente hanno avuto un periodo negativo liberandole da debiti che altrimenti peserebbero per tutta la vita e che comunque non riuscirebbero mai a pagare in nessun modo. È interessante questo strumento della liquidazione perché in realtà è possibile utilizzarlo anche quando non si hanno debiti ma magari finita l'attività imprenditoriale chiuso il tentativo imprenditoriale magari si è diventati dipendenti a quel punto che cosa si va a cedere? Si va a cedere una piccola quota dello stipendio un 10% dello stipendio un 20% dello stipendio questo 10-20% che poi viene valutato in realtà nella propria entità da parte del giudice che va a considerare le necessità i soldi che servono per vivere e poi va a considerare quanto invece c'è di surplus rispetto al necessario questo surplus viene accantonato poi per 4 anni sempre attraverso un organo del tribunale e con quello che si è accantonato poi si pagano i debitori i creditori sempre in maniera percentuale e proporzionale sì quindi comunque c'è sempre un controllo è chiaro questo è importantissimo perché non è che uno improvvisa così in proprio un piano di rientro più ore un modo per liberarsi dei debiti c'è un controllo superiore c'è sicuramente l'affiancamento di chi poi si prende carico di queste cose quindi di uno studio legale ma questo discorso può riguardare anche i debiti fiscali? sì assolutamente sì è una cosa assolutamente interessante e che fra l'altro è andata chiarendosi nel corso degli anni già dal 2014 in realtà si è capito che i debiti fiscali potevano rientrare all'interno di questo tipo di piano perché fra l'altro c'è stata prima una circolare dell'agenzia delle entrate che lo ha chiarito e poi anche una sentenza della corte costituzionale restavano viceversa esclusi i debiti IVA in quanto all'interno della normativa c'era proprio un articolo un comma che escludeva dalla possibilità di saldo e stragio quindi di falcidia i debiti IVA è intervenuta però la corte costituzionale nel 2019 abrogando questa norma in quanto appunto incostituzionale per disparità di trattamento rispetto ad altre ad altre situazioni e quindi dal 2019 è possibile includere anche i debiti IVA quindi diciamo che all'interno di queste situazioni quindi che possono essere o il piano concordato con i creditori o la liquidazione del proprio patrimonio rientrano anche tutti i debiti fiscali e quindi questo è una cosa non da poco che in realtà interessa la maggior parte delle persone che si trovano sottoposte a questo problema insomma certo poi c'è un altro aspetto da dire ipotizziamo il caso che io mi ritrovo in una situazione di difficoltà ma non abbia veramente nulla con cui poter pensare di iniziare un percorso di questo tipo come faccio? C'ho comunque una via d'uscita? Sì allora la normativa prevede uno strumento specifico per il soggetto incapiente totalmente incapiente quindi che non abbia né beni né abbia in qualche modo una parte dello stipendio da mettere a disposizione e ovviamente in questo caso la legge prevede una serie di norme speciali a garanzia dell'ordine pubblico e a garanzia insomma comunque dei creditori e quindi occorre un giudizio di meritevolezza cioè bisogna verificare che questi debiti siano nati secondo scopi corrispondenti all'attività che era stata posta in essere e che comunque il soggetto si sia comunque impegnato in qualche modo o a cercare di pagarli o a cercare un lavoro o a cercare qualche soluzione e quindi per la sua situazione quindi bisogna dimostrare di aver avuto un comportamento attivo ulteriore elemento è che comunque questa procedura si può utilizzare solo una volta nella vita però se si rispettano questi due requisiti è possibile avvalersi di questa norma anche per il soggetto incapiente e in questo caso il soggetto incapiente ha una pulizia completa dei propri debiti senza pagare assolutamente nulla e se poi nel corso dei quattro anni successivi magari vince la lotteria oppure inizia un'attività che diventa remunerativa e con questo riesce ad acquistare dei beni a quel punto è tenuto a fare una dichiarazione evidenziando di essere di aver avuto delle sopravvenienze attive magari un'eredità o quello che può essere e allora a quel punto si riapre la procedura e si dovrà poi reinserire all'interno della procedura anche queste eventuali sopravvenienze attive che siano discretamente rilevanti ovviamente sopravvenute nei quattro anni ma comunque anche il soggetto incapiente può liberarsi completamente dei debiti e riniziare una nuova vita in questo caso senza pagare assolutamente nulla allora quale percorso consiglia Avvocato una persona che si ritrova a un certo punto in queste difficoltà per tanti motivi il primo passo al di là del fatto che purtroppo oggi la società è quella che è una volta essere debitori poteva quasi sembrare una sorta di abbiura sociale perché comunque ci si ritrovava in una situazione nella quale poi si veniva guardati male si usciva da tutti i circuiti che poi immettevano in quella che poteva essere una vita attiva un'attività attiva oggi non è così perché purtroppo le difficoltà sono tantissime scoppiano le guerre dalla sera alla mattina ci confrontiamo con virus cose che mai sono successe negli ultimi cento anni e quindi dall'oggi al domani ci siamo trovati in queste condizioni crisi economiche mostruose come quelle che abbiamo accennato prima quella del 2008 eccetera allora io a un certo punto mi ritrovo in questo tipo di difficoltà cosa mi consiglia di fare? Allora la prima cosa da fare è sicuramente rivolgersi a un consulente esperto della materia può essere un avvocato può essere un commercialista di fiducia che abbia già trattato la questione perché come prima cosa bisogna fare una valutazione della sussistenza dei requisiti e della convenienza di avvalersi di questa procedura quindi va fatta una chiacchierata molto approfondita esaminati un po' i documenti per capire se si può rientrare all'interno dei parametri previsti dalla procedura e se questo sia conveniente per il soggetto mi è capitato ad esempio la settimana scorsa di parlare con una persona che poteva essere interessata però quando ha capito che comunque restava comunque vincolato per i successivi quattro anni a quel punto ho detto no però io ho necessità nei prossimi anni magari di comprare un nuovo mezzo e come faccio e quindi in quel caso non c'erano i requisiti per poter andare avanti le strade sono altre quindi diciamo non è tutto necessariamente rose e fiori va fatta un'analisi attenta della situazione quando poi si verifichi che effettivamente i presupposti e i requisiti ci sono a quel punto si deve iniziare a preparare una domanda corredata da ampia documentazione che deve essere raccolta questa domanda deve essere presentata al tribunale il tribunale deve nominare un organismo di controllo e tramite la collaborazione con questo organismo di controllo poi si giunge alla redazione del piano finale che viene presentato al tribunale per l'omologa omologato il piano il piano diventa definitivo le esecuzioni che eventualmente sono già in corso quindi anche esecuzioni alla casa esecuzioni vendite di beni vari vengono tutte sospese viene sospeso anche il pagamento eventualmente del quinto dello stipendio vengono sospese anche gli eventuali pignoramenti sullo stipendio fatti magari dall'Inps oppure fatti dall'agenzia delle entrate o fatti da qualche creditore quindi viene sospesa tutta la situazione precedente e si dà corso al piano che è stato approvato che può prevedere come dicevamo o la liquidazione dei beni o semplicemente un accantonamento di somme da destinare a un conto corrente riservato intestato al tribunale da cui poi passati 4 anni si procederà a prelevare le somme e a pagare i creditori sempre ad opera dell'organismo nominato dal tribunale quindi il primo passo è una seria valutazione della sussistenza dei presupposti il secondo passo è la presentazione di una domanda poi parte una procedura che comunque va evidentemente seguita sempre con l'aiuto di un professionista insomma quando si parla di procedura affidata a un tribunale eccetera possono venire un po' di timori riguardo ai tempi sono tempi abbastanza brevi oppure no? no sono tempi brevi sono tempi brevi nel senso che comunque il tribunale nomina il suo organismo di controllo nell'arco di un paio di settimane l'organismo di controllo che poi è di nuovo un avvocato di nuovo un commercialista deve semplicemente verificare la correttezza formale della domanda che è stata presentata e la veridicità di quello che si è dichiarato e poi questo ovviamente dipende dal professionista che viene nominato ma normalmente sono tutti professionisti scrupolosi che nell'arco di un mese due mesi fanno la loro relazione poi si va in tribunale il tribunale approva quindi diciamo che nell'arco di veramente pochissimi mesi due, tre, quattro mesi si può giungere a un'omologa a un'omologa del piano e quindi ad avviare ad avviare poi il piano e quindi già comunque dare un sollievo al soggetto anche dal punto di vista psicologico perché comunque non bisogna dimenticare questo aspetto cioè io mi trovo a parlare con tante persone che davvero vivono male dal punto di vista psicologico questa situazione perché nessuno inizia un'attività pensando di fare debiti e tutti iniziano un'attività pensando di svolgere un lavoro che possa poi dargli una minima gratificazione o comunque quantomeno possa permettergli di vivere serenamente e l'accumularsi di debiti è una situazione che già si sovrappone a una sorta di fallimento in qualche modo individuale perché l'attività che si era iniziata va male e le persone già lo vivono come un fallimento individuale oltre a questo elemento qui personale c'è poi la problematica di questi debiti che sono una montagna non scalabile e che tante volte creano una situazione di sofferenza psicologica molto profonda nelle persone le persone si ammalano per queste cose e quindi insomma ecco la possibilità che la legge ha dato di una soluzione moderna di questo problema è una possibilità interessante Sì davvero Avvocato la ringraziamo perché è stato molto chiaro ci ha dato anche proprio uno spiraglio ci ha dato uno spiraglio importante per chi si dovesse trovare a vivere situazioni difficili che molto spesso come ha perfettamente spiegato gli capitano per un insieme di motivazioni che peraltro sono molto molto insite nei nostri tempi Avvocato grazie ancora ce lo faccio a dire ha fatto meglio fare la carriera d'Avvocato che quella da ricercatore ne sono convinto esatto quindi siamo stati davvero contenti di averla ospite con noi ringraziamo chi ci ha seguito fino adesso buona serata a tutti e ancora davvero un grazie all'Avvocato Corrado Brancati io ringrazio voi e auguro tutti buona serata buona serata